Sarà una partita molto difficile quella che ci troveremo ad affrontare domenica sera perché Cicina in questo momento è probabilmente l'avversaria peggiore che ci poteva capitare. È una squadra in fiducia che viene da quattro vittorie consecutive nelle ultime cinque partite. Ha perso solamente la prima partita, tra l'altro dopo un tempo supplementare. Una squadra che si è già rinforzata sul mercato andando a prendere un giovane molto interessante come il Rossato. Una squadra che probabilmente potrà schierare nuovamente in campo del Testa che nella partita di Varese è stata assente. Una squadra molto fisica e una squadra che sicuramente è esperta della categoria e ha giocatori con molti punti nelle mani. Non ci dobbiamo far trarre in inganno se in amichevole ci abbiamo già vinto due volte perché questa partita sarà completamente un'altra storia. Noi veniamo da un turno di riposo che se da una parte ci ha permesso di ricaricare un po' le energie è sicuramente ha spezzato il ritmo positivo dal quale venivamo. Quindi è una partita da prendere assolutamente con le molle dato che è un'altra partita in trasferta molto difficile da vincere e per cui servirà grandissima concentrazione da parte dei miei ragazzi per portarla a casa.